Ciao amiche, come state? Spero tutto bene. Oggi noi siamo un po' così con la risata in tasca perché ho proprio rubarato il cosplay del calendario e ci viene troppo da ridere perché sapete che io in realtà non ho la frangetta. E che dite a me che sono andata a fare la frangetta apposta per assomigliare a Zia Emilia da Parigi? No, è una frangetta finta. L'avevamo comprata per fare Wednesday, mercoledì della famiglia Adams e a un certo punto mi ero proprio tutta tutta preparata e mi hanno fatto notare qua il costumista che ha scelto, è stato bravissimo ed è qua. Ciao! Non so se vuoi salutare, ok? E c'è ovviamente anche la regista. Ciao! E lui mi aveva preparato tutto l'ambaradan per prepararmi il vestito, ha scelto il colore del vestito e ho detto guarda, secondo me sei troppo Zia Emilia, se te lo metti in rosa, fucsia, mettiti questo qua che ci sta troppo bene, vero? Beh mi ha detto ti scelgo anche un po' con le perle e ho messo questo cerchiello molto sobrio, questa collanina anche sobria e gli orecchini che non si vedono sempre con le perline. Abbiamo messo, ah sì, puoi dire, la regista mi faceva segno anche le perle, le abbiamo attaccate qua perché se no erano troppo poche. Abbiamo attaccato tre perline qua, ho fatto l'ombretto rosa di un bel fucsia intenso, il rossetto pure fucsia, quindi c'ho il dubbio se sono Barbie o Emily in Paris, lo smalto fucsia e a un certo punto ero tutta pronta con questo cerchiello di perle e il costumista mi ha detto, mi ha guardato e mi ha detto, manca qualcosa, Emily ha la frangetta, tu no? Allora io non ho la stessa frangetta, non avevo disposizione perché l'ha una frangetta un pochino più rada, vedete che si vede la fronte, però io avevo questa e ho detto, sai che c'è? Quasi quasi mi metto quella frangettina che avevo comprato per fare mercoledì della famiglia Adams, infatti avevo fatto un video lo scorso anno dove avevo fatto make up mercoledì della famiglia Adams e se vi va di andare a vederlo lo trovate comunque nei video di Halloween, make up Halloween mi pare, che sia nella playlist make up Halloween, avevo utilizzato questa frangettina per fare appunto a mercoledì che è una frangetta con il cerchiello e quindi ho provato il metodo, ecco così meglio, però a me mi sta un sacco scomoda perché non sono abituata né ai cerchielli né alle frangette però mi hanno detto che così era più somigliante e siccome a me piace di fare matchy matchy col calendario, come dicono qua, matchy matchy, ci ho provato anche stavolta fatemi sapere amiche nei commenti se sono proprio esageratamente ridicola però insomma, dai, non è che vado in giro così alla fine per spacchettare questo calendario, ci sapeva molto molto carino, anche divertente ci siamo fatti un po' di risate mentre mi preparavo, vero? Sì, sì e allora, niente così oggi, andiamo a spacchettare, ma prima di tutto, ho 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 ho, Merry Christmas finalmente spacchettiamo questo calendario, sappiamo che a tanta gente piace Emily in Paris io e Emily, se mi stai guardando, Emily ti mando un bacio grande, ma non so chi sei, so chi hai fatto mi stavo appena informando questi giorni da una mia cara amica e mi ha detto che hai iniziato a guardare Emily in Paris che è un film, serie, una serie tv disponibile dove? Su? Sky, Netflix, Netflix forse noi non abbiamo ancora iniziato a guardarlo, ma probabilmente è per curiosità, visto che ho comprato il calendario andrò a vedere qualche puntata e chissà, magari mi piace pure, sono più stagioni non so quante siano assolutamente e penso che sia tipo una storia, se ho capito bene di una ragazza molto trendy, alla moda, carina, ambientato a Parigi, a Emily in Paris, fin là e sono super super curiosa di scoprire cosa ci sarà dentro, io mi aspetto delle cose carine, di classe e un po' rosatine, visto tutto sto fucsia eh sì, speriamo andiamo ad aprire? Bando alle ciance amiche, andiamo a spacchettare ma prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto l'iscrizione è ovviamente gratuita e se vi fa piacere iscrivervi io sono molto molto contenta e se non vi scrivete va bene lo stesso non c'è problema andiamo ad aprire è una scatolina di cartone invece quella dell'omino di panni zenzero era di latta, sentite questo è il cartone bellina, sì, secondo me si può tenere e riciclare per mettere dentro per esempio gli scrunchies oppure le pinzette per i capelli, gli elastici per i capelli diciamo che ecco, sicuramente dilatta è molto più resistente nel tempo però per un amante della serie Emily in Paris sicuramente non potrà buttare la scatolina ma la terrà, no? per ricordo apriamo? vediamo io sono curiosa, avrò le caselle così tipo scratch oppure scatoline vediamo hop là, scatoline bene, così è più facile riciclare la scatola perché se fosse stato a crack-crack crack-crank era un pochino più difficile perché bisognava smontare tutto per tenere la scatola andiamo ad aprire la prima casellina sembra un puzzle eh sì, hop là, già è caduta speriamo non si sia fatta male Emily come la metto così, secondo te? un po' verso il centro o se no così sì, va bene no? sì, sì, così cosa dici, va meglio così? sì allora si vede? sì i capelli mi danno ho la stessa lunghezza tra l'altro di capelli di Emily eh sì, infatti non li ho tagliati apposta però questo è un caso vuol dire che anche lei ama la comodità perché questa è una lunghezza che non è lunga non è comodo il capello è comodo casella numero uno sperando di non scarciofarmi lo smalto perché è messo da poco ed è in pericolo di scarciofamento casella uno è proprio scritto un pezzettino su ogni casella bellino bello, no? sì potevano farlo anche a colori era finito il toner l'hanno fatto in bianco e nero eh chissà che colore aveva il vestito allora è caduto tipo tetris mo cade tutto allora casella numero uno vedete prima voi e poi le vedo io come sempre apriamo chissà cosa ci sarà io super curiosa amiche eh c'è il cartone ah grazie perché non vedendo è difficile mi sa che è una palette allora bellina allora aspettate che chiudo la scatolina e l'appoggio qua com'è la? ah bella c'è lei in versione sentro pe ah viola dai lilla ho paura di far cadere tutto apro vediamo se c'è sì c'è lo specchio quindi copro lo specchio e faccio così abbiamo già 7000 swatch da fare perché ci sono 9 colori amiche tanti vado di swatch sono tutti marroncini ah molto simile a quella che abbiamo trovato con l'omino di quali genzi vero? sì infatti colori abbastanza marroncini neutri io che quante volte contiamo amiche quante volte mi farò così sulla frangetta perché mi dà fastidio mi sa che mi sa che gli assomiglia sembra quasi la stessa dorato bronzo i marroni vabbè con i colori sono un po' diversi sì allora andiamo immediatamente nella cialda non hanno disegnato nulla di là c'era l'omino di pan di zenzero disegnato scrive le scrive vado le faccio qua raffica allora uno bello scrive tanto due ohia è caduto guarda follato si spapola tutto vabbè eh prendine meno eh infatti oddio che zacco in una maniera vado riesci a inquadrare bene al fuoco eh sì scrivono molto mic bisogna andare stratificando piano piano si vede allora poi questo scrive un sacco e ok allora adesso perdonate che mi do una pulita al volo faccio qua il pannetto pronto e facciamo anche gli altri qua così questo bel dorattino più in alto più in basso dimmi perché sono comoda se mi accoggio questo è chiaro chiaro vado fallout però si sbriciola tutto questo beggiolino scrivere non c'è dubbio eh mi tocca dire che quelli revolution scrivono sempre un sacco sì bello anche questo è molto bello a quale ero arrivata al dorato devi questo questo sì vai eh già ma non mi sono neanche accorta allora poi questo lo facciamo qua e questo lo facciamo col pollice a questo punto vado vai si vede sì belli belli sì fai vedere bene i colori è bella idea farlo sul braccio così non mi dà neanche fastidio bellini sì nei miei colori dai alcuni sono proprio matte alcuni sono un po' più brillantinati questo è bello intenso per fare uno smokey eyes abbiamo anche qualcosa per creare i punti luce belli hanno anche dei ben nomi dreaming pool party luxury business centropè happy place get ways skirt quick fix adventure che padronanza della lingua inglese amiche e come l'altra è 9x0,02 0,6 grammi non ho capito se in totale o com'è la storia comunque non importa amiche mettiamoli qua così va bene qua secondo te o più indietro no no va bene bene quindi direi negli occhi questo bel fucsia è stato preso da una palette di revolution delle principesse disney quella di la bella dormitata nel bosco sì che c'è dentro un bellissimo fucsia abbiamo utilizzato quella casella numero 2 tetris proprio caduto tutto amiche caduto tutto si è disfrutato tutto stai qua allora aspettate che qua c'è un po' di quello che è accaduto prima ecco abbiamo un po' incadozzato tutto allora casella numero 2 è così che fastidio la frangetta seconda volta sì è già 2 allora amiche cosa c'è siamo pure alla casella 2 casella 2 un'altra palette non ci credo eh sì l'altra ma dai pazzesco e già qua siamo contenti allora amiche mi dimenticavo l'abbiamo comprato sul sito di revolution del famoso pacco che non arrivava e questa era arrivata prima delle altre due che erano quello di Willy Wonka la fabbrica di cioccolato e dell'omino di pan di zenzero e Emily in Paris era arrivato praticamente il giorno prima in un pacco singolo anche se era stato ordinato tutti e tre i calendari dell'avvento assieme e questa qua noi questo calendario l'abbiamo pagato 39,90 euro scontato invece che 49,90 euro ma in data di ieri costava ancora 34,90 euro quindi uno sconto ancora più vantaggioso rispetto a quanto l'avevamo pagato noi no buono 34,90 euro già ci sono due palette anche qua nove colori e qua cosa c'è è sempre Emily in Paris sembra Audrey Hepburn non so se si dice così comunque penso di sì e c'è la Tour Eiffel e Haute Couture tipo una linea super elegante parigina bellissima bella bella apriamo chissà che colori io super super curioso scuriamo il specchietto e colori io sono curiosa perché non vedo ma è diverso diverso uno sembra quasi suocciato di colore guardate è toccato poco poco non so come mai non so magari solo sì un difettino e come faccio adesso lo faccio nell'altro braccio suocci al contrario per forza allora scusate perché sarò un pochino imbranattina con la mano sinistra perché io sono a destra però cerco di mettercela tutta e di non essere molto imbranata allora suocciamo mi appoggio primo dimmi tu se si vede se sono lenta amiche fatemi sapere a me dispiace se sono lenta però io cerco anche di essere veloce però più di una certa non riesco allora bello quell'arancio che bello questo bello spero che si veda si 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 vede marrone questo è scuro si è scuro per fare smoky bello allora pulisco un attimo le zampine le zampine bello anche questo sembra un po' rose gold questo vediamo se effettivamente è rose gold vado eh si guarda bello bello questo è un po' aranciato c'era un po' di caduto e proprio questo che colare mattone questo bel dorato un dorato un po' freddo non si vede tanto questo chiaro questo è un rosa cos'è si un pesca mi sa belli belli sono te che dici sono belli belli si si vediamo che questo si vede e questo tocca farlo di pollice si ok ce l'ho riesci qua a inquadrare si ok bello tocca dire tutti i belli questi mi sa che faccio vedere anche l'altro braccio mi sto pulendo la mano un attimo e faccio vedere tutti e due le braccia assieme allora facciamo così per oscurare gli specchietti così riusciamo proprio a far vedere bene le palette così le due palette a confronto e le due braccia che che tattica super zayana proprio super poteri che si doppio swatch su due braccia due braccia ci vuole se metto un'altra palette me la swatch su una gamba sulla faccia belli qual è la più bella secondo voi allora questo è più colori freddi forse un più freddo c'è qualche rosa freddo e anche i doratini sono più freddi e queste più colori caldi quindi super super inclusiva hanno pensato un po' a tutti uno è un po' più caldo e uno è un po' più freddo allora sicuramente a me stanno meglio a me che i colori scusate i colori caldi però io utilizzo tantissimo anche i colori freddi infatti anche questo fucsio questo fucsio è freddissimo anche un blush di quella paletta appunto delle principesse rosa avevo messo anche uno caldo e poi ho dato una spolverata leggera con uno rosa molto freddo e il rossetto anche e della serie chissene amiche io avevo voglia comunque di truccarmi così e l'ho fatto sicuramente non mi starà bene al 100% come quelli caldi però diciamo che ci stanno provare e comunque a seconda di come si abbina dell'outfit per esempio perché io ho questo vestito sto anche perdendo qua un cappello ho questo vestito fucsia quindi secondo me nel complesso non è malissimo no? belli è caduto caduto e niente allora passiamo questi li lascio aperti così va bene cosa dici? sì sì a me così adesso mettiamo gli altri prodottini alla fine capiamo bene cosa abbiamo trovato non sono casellina numero 2 3 3 dove? al centro non sono delusa per adesso ah per adesso sono contenta questa non sta non so cosa metterci scusa per farcela stare è più bello forse se metti la pa dall'altra e dall'altra all'altra scatolina come? girate ah no perché dice perché c'è scritto pa rigi capito? ah ok giusto allora what up amiche parigi così facciamo così casella numero 3 vado con l'apertura fatemi sapere com'è questa apertura questi swatch di oggi qua cosa c'è è molto molto simile al mino di pan di zenzero qua non c'è come decorazione abbiamo questa che non so sembra tipo una roba di maglioncino e la scritta è milimense sì come la fantasia sul calendario ok è vero e che cos'è che cos'è io non lo posso leggere sarà ombretto liquido sicuro ce lo legge la regista scusate sotto è scritto perché io proprio è scritto piccolo 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 non lo vedo no è scritto qua a fianco ah è scritto a fianco come non detto dice stick ombretto occhi quindi ombretto liquido ok quindi è un ombretto liquido facciamo così apriamo l'ombretto e lo sguacciamo immediatamente vediamo com'è bello sembra dorato sì o no capita che è successo l'hanno infilato piegandolo quindi l'hanno rovinato vedete amica potrà capitare l'hanno infilato così e l'hanno rotto io consiglio quindi di usarne un altro intero no e quando finisce quello là probabilmente sarà più intelligente fare una cosa di questo tipo è rotto è rovinato comunque lo sguacciamo non si riesce a raddrizzare proviamo vediamo intanto facciamo lo swatch che non riusciamo neanche a fare perché si vede riusciamo sì sì ah non ve l'ho detto ma quello dell'altra volta che era un bel dorattino ecco bello di dell'omino di pan di zenzero c'era uno vediamo se si raddrizza sì guardate è morbido quindi si riesce a raddrizzare però lui ormai ha preso la piega così quindi niente è peccato è peccato lo si può utilizzare lo stesso comunque non ci sono problemi che cos'è quello? questo è un è un ombretto liquido questo è un bel e si asciugherà? sì quello del volevo dire quello dorattino che abbiamo trovato nell'omino di zenzero nell'omino di pan di zenzero quando poi mi sono lavata mi sono dimenticata di dirvelo e di controllare alla fine del video ma lui era perfettamente asciutto noi l'avevamo messo così tamponando no? e lui nel frattempo che noi abbiamo registrato si è asciugato sì era perfettamente asciutto eh meno male sì quindi buona la stesura buona la copertura e si era perfettamente andato a asciugare anche fatto un pochino di come si può dire di resistenza allo struccaggio perché ha usato uno struccante delicato e ha fatto un po' di resistenza questo è magnifico bellissimo è proprio bello guarda riflette un sacco la luce tutti belli eh sì infatti è molto riflettente casella numero 4 solo 3 prodotti e abbiamo 9 per 2 18 18 19 ombretti eh sì io scioccata letteralmente numero 4 è lì sul ok in pezzo della faccia di Emilia di Emilia italianizzata Emilia casella numero 4 oia questa frangetta ah amiche troveremo a questo punto dobbiamo trovare la casella Ugorru che anche un amiche infatti mi diceva che nell'altro calendario ne abbiamo trovato due ti saluto ti mando un bacio grande due caselle Ugorru che erano appunto quella dello scrunchies e quella dei pennellini anche lei era d'accordo che quelle erano due caselle Ugorru e dobbiamo trovare anche la casella Oia tabelligeddu o tabelligedda Oia tabelligeddu o tabelligedda vuol dire oh che bellino e che bellino ma non è possibile che bellino cade in continuo questo come faccio è perché ti appoggi sopra Oia che bellino o Oia che bellina ma io ci metto un coso di vetro pieno di pennelli così non cade più al limite amiche cade tutto il coso di pennelli però così reggia così non casca più e dobbiamo trovare la casella tipo che super bella e la casella Ugorru speriamo di trovarne solo una allora casella numero 4 andiamo ad aprire chissà cosa c'è qua così grande ho paura che sia la casella Ugorru e invece no e invece no un mascara quindi comprandoci tutti i calendari abbiamo un sacco di prodotti anche diversi è vero qua a te cioè è perfetto questa cosa spacca ce ne ha ammesso allora tanto viola lilla un viola chiaro e anche tanto tanto fucsia questo è un mascara andiamo ad aprire posso aprire che dite lo apro necessitiamo dell'apertura bello sigillato vediamo com'è lo scovolen ma che cosa sono sembrano capelli amiche vai in quadra cosa c'è nella punta capelli forse ma secondo me è mascara è mascara di quello che comunque ti stratifica e ti allunga un sacco le ciglia anche secondo me allora sapete cosa facciamo non vado a toccarlo se no mi sporco bello comunque uno scovolino e so che vi interessa anche sapere che scovolini si trovano di mascara no? perché se no non ha senso è molto interessante capire andremo a provarla uno delle prossime mattine quando mi trucco andrò a utilizzare anche questo mascara e vediamo come performa se performa bene ma sicuramente si mi viene da dire ho aspettative altissime comunque costano veramente poco questi prodotti trovati all'interno perché no? 50 euro perché costa 40 euro 90 il prezzo suo diviso 12 caselle se fossero 10 sarebbero 5 euro siccome sono 12 prodotti un po' meno 4 ma noi li abbiamo pagati 39 in realtà lo potete comprare anche 34 quindi forse 3 euro eh sì perché 34 euro 3 per 10 fa 30 più 2 prodotti 36 eh sì 3 euro ma io questo gliele do correndo 3 euro correndo amiche non mi vado non neanche correndo gliele davo 3 euro eh avendo avuto la possibilità di comprarlo diciamo anche vicino a casa perché adesso rifare l'ordine apposta per prendere questo un pochino mi fa l'ansia che arriva non arriva ma arriva non rotti scusate però sono molto carini da regalare a dicembre no all'amica come dice amazon alcuni venditori all'amica la mamma la sora la zia nipote comunione cresima e matrimoni e battesimi che è battesimi capodanno e natale dicono tutte le festività anche pasqua anche pasqua comunque a parte scherzi amiche questo qua è molto molto carino da regalare il mascara poi quello va bene a tutti casella numero cosa 5 sotto alla 6 in basso in basso casella numero 5 ma se mettono la limetta sono perdonati perché questa già si vale 8 euro hanno fatto tutto già con queste palette 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 casella numero 5 sono felice di questo calendario mi piace bravi allora ve lo faccio vedere prima a voi ero troppo curiosa stavo già guardando io che cos'è rossetto bravi bravi e mi piace io pensavo che quello dell'omino di pan di zenzero ho pensato ieri a parte i pennellini e lo scrunchies che forse è proprio bello no però mi è piaciuto dico la verità per quello che costa con me qua così mi è piaciuto proprio tanto metto qua però questo mi piace mi piace molto bello non mi piace tanto è in bullet è bellino non mi piace tanto che sia viola io sono più per il fucsia però mi sa che hanno messo qua entro due colori cioè viola e fucsia e lilla più che altro si è un lilla è un lilla scuro apro vai e vado a diswatch rosso dai bello un bel rosso io l'avrei fatto mettere viola quasi quasi o fucsia però dai vado qua a farlo pronta si vai ah ma è non è rosso non è rosso è fucsia amiche eppure è bello 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 a me non lo so se mi sta bene però un trucco vi dico appunto make up trucchi un trucco mettete la matita a seconda di come lo volete se scaldare o sfreddare un contorno marrone perché diconoci di mettere la stessa matita identica però se il colore del rossetto vi piace al 100% se non vi piace al 100% con una matita un po' più marrone o un po' più rossa o un po' più rosa andate un pochino a modificare a scaldare se sfumate poi la matita con il rossetto quindi io ho un trucchetto che uso spesso soprattutto se non ho quel colore che mi serve e non fa nessun danno diciamo è una cosa anche abbastanza furba casella numero 6 che io la vedo al contrario 6 allora la frangetta per chi mette molto mascara come me si attacca a tutto casella numero 6 la frangetta mi dà fastidio allora cosa c'è? hanno messo troppo sono quasi imbarazzata un altro vabbè no non ci speravo è uno viola numerosa ma non ci speravo amore stavo dicendo mi sono emozionata mi sono emozionata sto tremando scusate c'è addirittura due no io sono quasi imbarazzata gli dobbiamo mandare 5 euro qualcosa a revolution in regalo sì perché sono imbarazzata adesso così ci perdono è troppo secondo me è esagerato così ci perdono loro è troppo così dare 34 euro in offerta una roba del genere poi i prodotti io ecco non pensavo all'inizio quando ho iniziato a utilizzarli un anno fa però gli ombretti secondo me sono buoni perché comunque sembravano non tanto compatti e facessero un po' di fallout però andando a prenderlo in modo delicato poi con una passatina leggera io ho fatto l'ombretto oggi ma l'ho usato tante volte boh è bello addirittura un nude guardate cioè io ma sono commossa è bello bravi questo me lo butto in borsetta subito sapevo si guarda oh vabbè guarda proprio così ne metto un po' amiche a bondo bello bello è un nude non buzza ovviamente ero già sicura bravi scusate amiche un pochino di mi sono emozionata mi è venuta anche la tosse belli cioè io sono rimasta colpita colpita nel profondo addirittura a due cioè poverini sono stati troppo così è troppo sono stati troppo bravi secondo me addirittura a due hanno pensato un po' a tutti i colori più caldo questo è un nude un po' più caldino secondo me questo è un po' più freddino quindi hanno messo una palette calda una palette scura l'ombrato liquido va bene a tutte secondo me casella numero 7 10 7 ah no mi sembrava scu amiche è talmente bello che ci sembra già di aver trovato tutto no no casellina numero 7 è quello sai perché è talmente bello che ci pare di aver trovato già tutto casella numero 7 è caduta in media la scritta allora facciamo così qua cosa ci sarà a questo punto qua anche se non c'è nulla va bene casella 7 anche se c'è un pennello va bene anche se c'è un gorro cosa c'è? vediamo cosa c'è? non ci credo è pure una matita ohia tocca mandargli qualcosa ohia tocca mandargli un cestino non lo so un cestale qualcosa amiche facciamo una colletta mandiamogli qualcosa che bravi questo è essere bravi saper fare le cose bravi addirittura una matita sarà labbra penso dal colore e qua è rossa vediamo se c'è scritto comunque sì questa è una matita labbra di sicuro aspettate che la vostra streghetta preferita è un pochettino ceccata comunque sì 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 non lo leggo amica non lo leggo lo legge la regista però secondo me è labbra sì sì lip liner c'è scritto grazie allora il colore è già meraviglioso apriamo forse ok e vediamo se scrive la mettiamo qua è anche una matita grande mi sa non è piccola sì è una matita grande poi mi sento vediamo in debito qua con guarda è lunga questa è nuova che bravi poverini mi dispiace ed è anche abbinata con il rosetto infatti guarda poverini vai poverini troppo bravi sono stati guarda non ci credo rosa lo stesso tonalità di fucsia così ballò che dire mi sto mi sto quasi commovendo ve lo dico io pensavo di aver buttato tra virgolette un po' i miei soldini infatti tu avevi detto che era quello che pensavi che ti piacesse di meno invece mi sa che è passato prima ma sapete perché perché praticamente questo è un nome no è Milimperis è un nome anche diciamo che conta in questo momento perché c'è questa serie quindi tante di noi l'avrebbero comprato anche con dentro un co ugo runico solo perché è Emily no quindi non ci si aspetta che addirittura ci siano delle robe belle ma io cioè se l'avessi aperto casella per casella se l'avessi cioè nei vari giorni no un giorno sì un giorno no a dicembre ma sarei rimasta colpita e non avrei più resistito le avrei aperte tutte insieme ecco sì perché trovando le palette ai primi due colpi no le prime due caselle non avrei più potuto dormire avrei aperto anche le altre vi dico la verità casella 8 ma fatene altri revolution tutti così li vogliamo eh sì casella 8 io allora in questo momento mi aspetto amiche la limetta benvenga anche la pinzata per i baffi a questo punto benvenga benvenga e invece secondo me no secondo te no no perché secondo me sono stati bravi oia amiche ho sbirciato c'è la matita ma dai giallo strano stasso colo sì no è verde è giallo strano questo sì oia guarda sto tremando mi sono emozionata e poi questa mi piace un sacco io le uso un sacco queste di questo colore di no che ovviamente sono tutte fatte cioè apposta ovviamente tutte amy l'imperis scollezione fatta apposta che bravi che bravi quindi sì veramente amiche abbiamo aperto calendari di brand top no luxury si dice così quindi super top che non si sono impegnati a fare magari neanche un rossettino natalizio e questi hanno fatto il mondo il mondo no c'è roba è da matti il mondo vado oia che emozione non pensavo mi trema la mano bella questa mi piace molto io la uso questa tutti i giorni però ho promesso che useremo anche colori appunto diversi per fare insieme dei make up particolari tutti i giorni bello 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 grazie grazie revolution perché io mi scoccio a comprarmi le matite e i rossetti abbinati spesso ne ho ne ho qualcuna matita però un pochino mi scoccio perché le matite non lo so non mi dà la stessa gioia del rossetto quando le compro quindi ne ho meno e tra virgolette appunto mi serviva qualcosa di abbinato qua la limetta non penso più che ci sia perché caselline di forma allungata non ce ne sono vediamo che casella tocca prima dieci la nove si è vero la nove amiche quante è il calendario più bello perché per questo prezzo mai e poi mai mi sarei aspettata ma neanche io cioè io pensavo di essere già alla dieci già alla sei non lo so casella numero nove cosa c'è dove si apre come si fa è tipo un coperchietto di buon ah si si scusate amica mi tacca apro e vi faccio vedere a voi ok cosa c'è ho paura così grande cos'è che cosa non lo so uno spray fissante tu lo sai fissante trucco addirittura un setting spray ci hanno fatto tutto il kit no è abbinato con la matita pazzesco amica scusate proviamo però però il mascara faccio così profumato di cosa no di cocco buono voi sentite vaniglia no non ci sento vaniglia cocco facciamo sentire cocco vaniglia cocco vaniglia cocco vaniglia è un po' cocco vaniglia che dici si pazzesco guarda sembra di cocco cocco ma in questo periodo mi piace il cocco pazzesco io se me l'avessero detto non ci avrei creduto casella numero oh finalmente adesso c'è la dieci è davvero che piccola che ci 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 sarà il temberino vogliamo dirgli che la casella è ugorru vediamo amica cosa c'è che cos'è è morbida piccolina è bellina pure è questa è bellina piccolina verdolina però forse è fissia nel senso secondo me hanno fatto anche bene a metterla perché comunque magari una non ce l'ha cioè ok che adesso non ce l'hanno un po' tutti dai ci vuole è carina poi con tutto quello che hanno messo metti che questa costa un po' di meno però mi tocca dire sapete che mi torna bene perché la mia forse non ce l'ho qua ce l'ho qua dietro la mia è esattamente che mi trovo bene 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 esattamente di questa grandezza ed è vecchia la devo buttare quindi sono pure contenta casella numero 11 siamo quasi alla fine è pesante pesa un botto cosa ci sarà praticamente adesso ci sono state tutte cose abbinate eh sì tranne però la matita che è gialla mi dispiace che è finita non riesco a aprirla allora così pronte che arriva vediamo sai cosa c'è perché questo è pesante oia che mi cade che cos'è cos'è non lo so leggiamo un bottiglione non lo leggo crema cero non lo so sto cercando di leggere addirittura cosa c'è leggi un primer è un primer ho letto bene scusate perché è scritto piccolo primer pazzesco un primer cioè i primer costano nick i primer lo sappiamo tutta che sono delle cose che costano più della limetta ovviamente ne è di molto un po' di più sì sicuro scusate e io non ne ho mai primer e quindi sono proprio contenta andiamo anche a dare subito sentire la consistenza allora vediamo ce la possiamo fare sì allora two hours later non aspettate non hai no forse forse è sigillato dentro così si apre e così ah ok ce l'abbiamo fatta 4 anni dopo ok vediamo un po' la consistenza finalmente appiccica? no appiccicare non appiccica io mi accorgo subito si si assorbe subito leviga un sacco bello lisciante eh poi lo proviamo sul viso perché deve lisciare è profumato minimizzare i pori morbidissimo senti? è vero morbidissimo è profumato è profumato non sa di cocco sa un po' di caramellina tipo e anche un po' ti sei rimasta male perché non te lo aspettavi pazzesco cioè io mi sento in debito voglio andare a trovarli e dirgli che sono stati bravi bello è anche un po' perlatino c'è un po' tipo di madre perla quindi penso che dia anche un po' di luminosità alla base pazzesco ed è anche grande comunque sono 12 ml non è piccolo e questo quanti ml sono? 30 è bello come grande cioè pazzesco ma a questo punto qua cosa ci sarà? nella casella numero 12 compriamoci in altri 10 cosa? compriamoci in altri 10 altri 10 di questi nella casella della Lallix amiche cosa ci sarà? lo apriamo mi dispiace è leggera amiche mi dispiace che sia finito che questa sia l'ultima casella perché è veramente allora ve la faccio vedere casella 12 veramente bello apriamo cosa c'è? vediamo non si capisce a vedere così che cosa? ma dai questa è la casella uorru ufficialmente perché nel senso in tutti i calendari c'è la casella c'è la casella uorru perché è della normale meno utile esatto nel senso amiche non fraintendetemi è bellissima perché io allora le ho provate a comprare ne ho comprate tre ciglia finte e poi non prendo coraggio a usarle e direte voi ma come usi usi la frangetta finta e non usi le ciglia finte ma sapete perché? perché io con il mascara comunque ho un ventaglio che già è pesante di ciglia e quindi non mi viene molta voglia di mettere le ciglia finte un po' perché non sono tanto brava a metterle probabilmente perché non ho mai provato però sì carino averle trovate perché io non ne ho dove si vediamo come si mettono le apriamo ovviamente però sì carino perché ecco io ne ho boh tre quattro paia ma non le ho mai utilizzate devo belle sono belle a ventaglietto io so che bisogna controllare la lunghezza e appunto tagliare se ce n'è un pezzettino in più io però che mi dispiace buttare penso che me le attaccherò più allungate no scarso scarso amica però peccato tagliarle si taglieranno il dentro non la colina no bellissimo comunque questa è amica la casella ugorro sì certo è la casella ugorro perché magari non tutti le utilizzano le ciglia finte e a questo punto qual è la casella top ne abbiamo due a pari merito uta belligèdu e uta belligèda le palettes voi cosa dite eh sì anche secondo me per voi questa è la casella ugorro sì anche sì sì varo eh dirai beh sì è normale in tutti i calendari c'è la casella ugorro ugorro la troviamo sempre che comunque non è alla fine così tanto cioè c'è nel senso è sempre meglio che la rimetta sì infatti le pizzette per i baffini abbiamo tante ormai è sempre esagerato trovarne ancora e sì casella ugorro quella è la casella più bella qual è secondo voi secondo me quelle di palettes anche secondo me le palettes spettacolari comunque questo 49,90 se lo vale ancora di più si vale 39,90 e anche 34,90 a me che pazzesco non ho nessuna qua è rimasto vuoto nessuna critica da fare a questo calendario mi piace al 100% anche io a me mi piace bravi e voi che dite amiche fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto questo calendario se vi ha incuriosito se magari lo comprerete e niente fatemi sapere appunto se a voi Emily in Paris piace se avete visto la serie tv tutte le stagioni di Emily in Paris o magari avete appena iniziato a guardare la prima stagione fatemi sapere cosa ne pensate e ricordatevi stavo dimenticando ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video schiacciate un pollicino se questo video vi è piaciuto e se vi va condividete il video alle vostre amiche magari a cui piace la serie Emily in Paris oppure le appassionate dei o appassionati dei calendari dell'avvento così youtube inizierà ad apprezzare ancora di più il nostro canale e a spingerci sempre di più nella piattaforma è un aiuto grande 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 che potete darci proprio un sostegno molto importante per noi e per far crescere sempre di più la nostra community no? che dite? eh sì un piccolo gesto però a noi aiuto che mi faccio anche male un piccolo gesto che però sicuramente a noi aiuta tantissimo e vi ringraziamo se siete arrivati fino a qua a vedere il video e anche se l'avete smesso prima perché magari eravate a noi atti e vi mandiamo un bacio grande voi volete dire qualcosa? no, anche io sconvolta sì, anch'io bellissimo bellissimo ecco mi dispiace non averlo aperto subito quando è arrivato io invece non me l'aspettavo proprio cioè non me lo sono proprio considerata con questo calendario perché ho detto boh anche i colori il fatto che fosse in bianco e nero Emilia qua è in bianco e nero non mi trasmetteva tutto questo colore che in realtà c'era dentro è infatti sono proprio rimasta comunque gli fa 100 a 0 quello dell'omino di pan di zenzero come contenuto perché lui aveva le caselline con gli ombrettini tondi piccoli che alla fine in confronto alle palettes di là ce n'era una palette e anche lo scrunchies di là secondo me i pennellini e poi di là abbiamo trovato anche un blush troppo forte cioè viola no viola viola violaceo i rossetti le matite tutto pazzesco ecco l'unica cosa che non c'è mi avevo tenuto in mente adesso il blush ah il blush è vero non c'è il blush potevano mettere invece dell'ombretto liquido un blush però quest'anno l'ombretto liquido in questo periodo l'ombretto liquido è molto di moda si ne fanno tanti di belli oppure al posto delle delle ciglia pinte eh oppure al posto della beauty blender mettevano un blush vicino non hanno messo nemmeno l'illuminante però eh io mi sono stati bravi perché hanno messo tantissime cose mi è piaciuto forse anche di mettere tipo due rossetti secondo me si sono concentrati per mettere prodotti diversi così se uno compra tutti i calendari ha un po' tutti i prodotti perché di là non c'era il mascara eh esatto può essere c'era la beauty blender però che è diversa è fatta diversa c'erano i pennelli qua non ci sono i pennelli e forse quell'altra è più adatta anche per estendere il fondotinta in una zona più ampia invece questo è più da correttore nel contorno occhi più piccolino non c'era il mascara qua ci sono le matite labbra di là non c'erano si mi sa che hanno si qua c'è anche lo spray fissante il primer si di là c'erano gloss qua non ci sono i gloss quindi mi sa che fanno a questo punto cosa ci sarà in Willy Wonka la fabbrica di cioccolà aiuto io curiosa come le scimmie amiche fatemi sapere cosa ne pensate c'è questa quantità mi sa che abbiamo fatto bene a comprarli io già che penso chissà cosa faranno l'anno prossimo non vedo l'ora beh intanto ci godiamo quelli di quest'anno sì 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 veramente veramente bellissimi che dire allora andiamo a preparare gli outfit per il prossimo spacchettamento perché amiche vi dico una cosa praticamente in due o tre giorni perché io comunque ci metto due o tre ore a prepararmi decidiamo i colori quindi tutto quello che ci sta dietro e poi sì la registrazione un po' di editing di video quindi cinque o sei ore di lavoro vanno no in preparazione tra costume diciamo costumista e poi sì io che mi trucco mi preparo aver deciso sì della flangetta un po' tutto quello che ci sta dietro quindi ci vuole un pochino di tempo per la preparazione però a noi ci piace un sacco soprattutto a me vi dico la verità eh sì mi piace proprio e lo faccio molto volentieri quindi vi mandiamo un bacio grande grande grandissimo e corriamo a prepararci per il prossimo unbox un bacio amiche al prossimo video ciao